Benvenuti a questo corso online di canto gregoriano. In questa serie di brevi incontri, di brevi lezioni, ci occuperemo di semiologia, di semiologia gregoriana e sosteremo in modo particolare sulla grammatica dei segni per scoprire come si è potuto passare dalla memoria alla scrittura e capire in che modo gli antichi notatori hanno saputo assegnare a quei primi segni che chiamiamo neumi una memoria di suono. Per far questo tuttavia occorre fare un percorso ordinato evitando facili scorciatoie e prima di studiare le singole figure neumatiche che analizzeremo in modo approfondito, è fondamentale quindi cogliere almeno le linee essenziali del progetto gregoriano nel suo insieme. Il vero prodigio del canto gregoriano sta essenzialmente nella sua intima natura spirituale. Prima di meritare le note definizioni, come sappiamo, di canto sacro e di canto proprio della liturgia romana, ce lo ricorda anche il concilio Vaticano II nella Sacro Santo Unconcilium al numero 116, il canto gregoriano si configura storicamente come esito non scritto di una grandiosa riflessione sui testi sacri. I stili, le forme, i contenuti, la melodia, il ritmo, le formule, le allusioni, i rimandi, i procedimenti compositivi sono le travi, le travi portanti di un progetto, di un progetto mentale affidato quindi totalmente alla memoria, nato con la memoria e consegnato alla posterità con una tecnica mnemonica impareggiabile. Dunque secoli di suono, di solo suono della parola, hanno fissato e consacrato un repertorio straordinario, un repertorio sterminato condiviso dall'intera Europa cristiana e assurdo a liturgia, liturgia della Chiesa cattolica e come tale mai rinnegato fino ai nostri giorni. Il respiro universale di questo repertorio e patrimonio comune orienta la nostra ricerca sul significato del passaggio epocale dalla sola memoria alla notazione. Questo è il punto discriminante, il passaggio dalla memoria, da un repertorio conosciuto a memoria alla notazione di questo repertorio, alla scrittura. scrittura che non è, non si tratta possiamo dire di una, di un atto compositivo che pone in essere e suggerisce una novità sonora, non è questo, ma è la fissazione di una memoria appunto, tanto indisponibile a iniziative personali quanto aperta a multiforme grafie, le scuole di notazioni sparse in tutta Europa, che ne conservino la sostanza. E' precisamente su questa linea di confine che intende collocarsi il nostro studio, allo scopo di poter cogliere nella grafia degli antichi amanuensi, attraverso l'efficacia e la coerenza soprattutto dei sistemi notazionali, l'intenzione di una fedeltà, di una fedeltà al pensiero che la Chiesa ha posto da sempre in modo esclusivo sulla parola, sulla parola di Dio. L'esatta ricostruzione di questo patrimonio della memoria, è inutile negarlo, è impresa impossibile. Le vestigia di originali progetti sonori impalpabili e perduti per sempre ci si presentano nella plurisecolare stratificazione di codici e libri liturgici che raccontano un'evoluzione, raccontano l'evoluzione, osiamo dire anche per certi aspetti decadente, l'evoluzione dell'in principio, cioè dello spazio di piena consapevolezza nel quale ora intendiamo idealmente collocarci e dal quale può nascere una scrittura, una scrittura di senso, ci collochiamo in quello spazio là, originale. E questo spazio di pura memoria si rende parzialmente accessibile solo con l'assunzione del maggior numero di strumenti in grado di richiamarla. E senza dubbio il Graduale Triplex rappresenta l'edizione più idonea per intraprendere una simile avventura. Ecco la copertina del Graduale Triplex. Una pagina invece, ecco, del Graduale. Questa è una pagina del Graduale Triplex. E guardando una pagina di questo libro, di questo Graduale, ecco possiamo dire che siamo di fronte al simbolo concreto di un nuovo approccio inaugurato dalla semiologia gregoriana a partire dalla metà del XX secolo. Perché questo? Ma perché assieme alla tradizionale notazione quadrata, cioè la notazione diastematica, e cioè la notazione che dà una linea melodica e che è caratteristica comune a tutte le edizioni di canto gregoriano che conosciamo, ecco, a questa notazione quadrata che chiamiamo Vaticana, dall'editrice Vaticana, sono state aggiunte le due notazioni adiastematiche, cioè senza rigo musicale, adiastematiche, senza la diastemazia. Due notazioni quindi in campo aperto, così si chiamano anche, e che sono le due fra le più importanti del panorama europeo, e che risalgono al X-XI secolo. La scrittura sangallese, trascritta in rosso sotto il tetragramma, e la scrittura metense, la scrittura trascritta in nero sopra il tetragramma. scrittura di Sangallo e scrittura metense del codice, in modo particolare, la scrittura metense del codice particolare di Lon 239. Ecco, avremo modo di riprendere questo discorso, ma già vediamo qua nel quadratino a sinistra di ogni brano che è indicata la sigla L, Lon, il manoscritto di Lon 239, la pagina del manoscritto da cui è stata trascritta, pagina 159 di questo codice, sotto E332, vuol dire la pagina 382 del codice E. Il codice E è il codice di Ainsiden, Ainsiden 121, un codice sangallese, il più importante codice sangallese, il più ancora L, 68, pagina 68 del codice di Lon 239, l'annotazione trascritta in nero, e non più E, ma C, pagina 79 del manoscritto C, che è Sangallo 359. C significa Cantatorium, che è il codice che raccoglie i brani del solista, e cioè graduale, tratto e alleluia. Ecco, sono stati utilizzati quindi questi codici adiastematici che sono i più importanti nella tradizione gregoriana, nella tradizione manoscritta. La sovrapposizione di due fonti adiastematiche al consueto tetragramma ha prodotto realmente una svolta, una svolta decisiva nello studio del canto gregoriano, proprio per il fatto che all'indicazione di una linea melodica è stata giunta la duplice testimonianza di quello che abbiamo detto essere una sorta di linea di confine, ecco, cioè l'antico e cruciale passaggio dalla memoria al segno. E questi neumi, avremo modo di vederlo ampiamente, questi neumi senza rigo, che saranno appunto oggetto delle nostre riflessioni ritmiche, catturano in modo del tutto speciale la nostra attenzione e consentono il percorso aritroso di ricostruzione. Ricostruzione della memoria che tenteremo di riprendere. La semiologia ha studiato e studia questi segni, li studia nel loro valore e nel loro significato, nel loro significato espressivo. E vogliamo ora incominciare a provare almeno, a farli nostri, cioè a costruirli e ad assemblarli con pazienza secondo la logica degli antichi amanuensi. Vogliamo pensarli come sistema di notazione, come sistema coerente di una logica notazionale a disposizione di uno scrittore che sia allo stesso tempo testimone fedele del deposito di una tradizione orale di un testo sacro spiegato, che si fa suono e che si fa liturgia, che si fa culto divino. Se l'esito finale di un faticoso cammino plurisecolare è simboleggiato, come vediamo qua, dalla pagina, da una pagina del graduale triplex, converrà invertire la rotta e passare dalla sintesi all'analisi, all'analisi dettagliata e scrupolosa degli elementi che compongono questa pagina. Elementi che sono schematizzabili in questo modo che ora vediamo. Il progetto testuale, il progetto estetico e il progetto retorico-esegetico, li affronteremo uno alla volta nelle prossime lezioni. Il progetto testuale, cioè la composizione dei testi per ciascun canto. Il progetto estetico, cioè l'estetica gregoriana, il modo di comporre, cioè la melodia indicata dalla notazione quadrata, la linea melodica sostanzialmente. Il progetto retorico-esegetico, cioè il ritmo, il ritmo suggerito dalle notazioni in campo aperto, il ritmo inteso come ordo motus, cioè come ordine del movimento. Ecco questi tre progetti analizzeremo prima di affrontare la notazione vera e propria. Il nostro strumento di lavoro, l'abbiamo detto, è il graduale triplex. E il graduale triplex lo vediamo qua, lo analizzeremo brevemente nella prossima lezione. Graduale triplex per questa triplice notazione e graduale triplex perché contiene i canti del repertorio della messa. Avremo modo di ragionare sulle parti che compongono questo libro fondamentale per noi e al quale ci riferiamo per lo studio della notazione.